Luis Alberto rimane il nodo principale intorno al quale si può evolvere la parte finale del mercato estivo. Il Siviglia rimane il grande sogno del 10 spagnolo. L'Otito, sebbene sappia che il centrocampista rimane in uscita, non ha alcuna intenzione di svenderlo. Per questo il prezzo che fa il patron rimane quello che si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro e solo l'entrata di questa cifra potrebbe permettere di chiudere definitivamente l'affare Illich, bloccato ormai da tempo. L'Otito non ha alcuna intenzione di creare un caso intorno a Luis Alberto che porterebbe inevitabilmente a una svalutazione sul prezzo del giocatore. Il prezzo, che rimane quello dei 20-22 milioni, appare comunque un prezzo troppo alto ancora per il Siviglia. Tuttavia la società andalusa non si è tirata fuori del tutto. Monci potrebbe farsi avanti nuovamente sul finire di agosto. Il rischio per la Lazio è che il Siviglia si possa presentare a Formello tra due settimane, con un'offerta volta al ribasso. Sarri è preoccupato per l'altalena di umori che dallo scorso anno accompagnano le stagioni di Luis Alberto. Quest'anno sconti non possono essere fatti. L'anno deve essere quello della svolta. Serve un gruppo compatto che viaggia all'unisono verso l'obiettivo Champions League. In questa Lazio non c'è più spazio per ricapricci.